Corri dall'inferno a Central Park è il titolo del libro autobiografico del giornalista Roberto Di Sante che sarà presentato domani alle 18 al Gran Caffè Letterario su iniziativa del Panathlon e della società podistica Runners Sulmona. Si tratta della storia di un uomo precipitato dall'inferno e nel pozzo buio della depressione che riesce a ritrovare il senso della vita aggrappandosi ad un filo luminoso rappresentato dal sogno di correre la maratona di New York e questa illuminazione arrivò a pochi passi dalla fine di tutto. Una storia che potrebbe riguardare ciascuno di noi se si considera che la depressione è una malattia che in Italia è tra le prime cause di invalidità al lavoro e che spesse volte porta al suicidio se non viene curata bene. La corsa come forma di liberazione in grado di salvare la vita restituendola a pieni colori. L'autore interverrà alla presentazione di domani che per la Runners vedrà la partecipazione di Oreste di Sanza e Alfonso Orfanelli mentre per il Panathlon di Luigi da Civita e Alessandro Carnevale. Interverrà inoltre la dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio Caterina Fantauzzi. Nel corso dell'evento racconteranno le loro storie il maratoneta Stefano Catolino e il podista Giorgio Pitassi. Storie di corsa come stile di vita e medicina per il corpo e lo spirito. Un romanzo molto attuale che Roberto di Sante sta presentando in tutta Italia oltre ad essere approdato nell'ottobre 2018 al quarantottissimo congresso nazionale di psichiatria di Torino. Argomento peraltro già trattato sabato scorso a Sulmona dalla dottoressa Leda Galiuto nel convegno su alimentazione e sport, evento complementare a quello di domani al Gran Caffè Letterario per sviluppare nuovamente a Sulmona tematiche importanti legate allo sport da intendere come palestra di vita. Il Panathlon rivolge l'invito a partecipare alle famiglie e ai bambini sia alla presentazione del libro che alla quarta edizione dello video running in programma nella mattinata di domenica 29 settembre che oltre alla gara competitiva di 10 chilometri prevede anche una passeggiata lungo le strade cittadine di Sulmona.